Musica Salve a tutti cari amici e benvenuti con me in questo nuovo video Oggi siamo per la prima volta su Naruto Shippuden Ultimate Ranger Storm Revolution Il primo e forse anche ultimo gioco che farò col joystick dell'Xbox Sì, quindi iniziamo subito Allora, vi avviso, il gioco andrà un po' lento perché il mio non è un computer dei migliori Quindi questa è l'unica pecca del gioco Per il resto c'è tutto, ho sbloccato tutto già per conto mio Purtroppo ero troppo eccitato dal giocare registrando E ho registrato tutto per cavoli miei Sorry Ma io non ho registrato niente, ho fatto tutto per cavoli miei perché Voglio sbloccare tutti, tutti i personaggi Allora, vorrei iniziare con qualche battaglia a caso, free battle appunto E poi piano piano faremo anche le tre modalità storia Qualche lega, torneo eccetera Partiamo da una versus battle Giusto per farvi capire quanto sono forte Ok, faccio la partita, sì È partita la partita in squadra Fantastico Vabbè, facciamo lo stesso Allora, mettiamo uno dei miei preset E mettiamo quello Shisui Itachi Perché è uno dei migliori secondo me E poi mettiamo il preset come avversario Pain Conan Effettivamente siamo due Non è che ce ne mettiamo contro tre E come scenario vorrei mettere questo perché è l'unico che anche normalmente va un pochino più veloce con maggiore qualità Ok, siamo pronti La faccia è proprio fiera di Itachi Nel, la, la sotto Ok, siamo pronti Shisui contro Pain La battaglia più epica della storia, signori Spossa via Conan Nessuno ti vuole Guarda là come li ho sfondati tutti e due Non so perché ma io scippo Pain e Conan Non so voi ma io li scippo Ok Guarda là, guarda là Shisui parte, shisui parte Oh cavolo Oh che schivata Fiamme, fiamme, ok Aia Non osare a toccarmi Pain No, 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 no Vieni Tachi, aiutami Brucia la carta di cosa là Di Conan No, ho più che altro bruciato i capelli di Pain Ok, vieni qua, vieni, bam Bam, bam, bam No, no Ti voglio sfondare di ma Oh cavolo Cos'era quello? Ha fatto leggermente paura ma lo sfondo lo stesso Eh, eh, eh Vieni qua, vieni che ti sfondo di mozzate Carichiamo pure un po' di chakra, già che ci siamo Ok, è stato totalmente inutile quell'attacco Piuttosto buttiamo questi Oh baby, a cipo E io volo, poi si vede Bam, bam, bam No, 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 no No, non ho sostituzioni È un problema serio Aiutami Tachi Non essere inutile Bravo, bravo Tachi Bravo Sei un grande Tachi Oh cavolo Mi ha preso Che schifo è Ma che schifo Cioè mi ha preso con la lingua Mi ha pure sputato Ma che schifo Ma che schifo è proprio un stardo Bam, bam, bam Ma che uccia Ma proprio Ok, vediamo un po' Butta via queste robe Quei kunai, quello che devono essere Oh cavolo Corri scappa C'è la danza Shikagami Yeee Maledetta Conan Oh, oh Sono ripartito molto shwego Swiggy diswuddy Coming for the booty Swiggy diswuddy Coming for the booty Nonostante lui abbia tutte le sostituzioni Non vuole schivare niente Vabbè Chissene Bam Eh, tra poco Pain verrà sfondato di mazzate E Corri Oh cavolo Cavolo, 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 cavolo Non mi devo far prendere Bella Aia Ho sentito che vibrava il joystick Non so cos'è successo Ma Cissene per me No, non l'ho preso neanche di striscio No, soltanto lui sono staffetto Ah Aia, aia, aia Eh no Fatti afferrare per una volta Che diamine E allora Corri, scappa Se no questo si fa come trasporta Ancora più figo Ok Ma posso fargli l'ultimate Vieni Itachi Facciamogli un po' di pezzi Bam No Ah, che bello Adesso Pain se la vedrà contro me E Itachi Vediamo come te la cavi Boom, boom, boom Il sfondo di mazzate Guarda là Dragon Flame Jutsu Guarda là Certe scene sono fatte da bestia Guardate là Ultimate Jutsu di squadra Questa forse è la cosa più bella del gioco Guarda là Non ci sono parole per questa scena Perché è troppo, troppo bella Bam E così Pain morì Guarda là Guarda là Cioè io sono un pro Shizu è un figo Itachi pure Hanno una mossa figa E Visto E questo è il potere degli Uchiha Perché io non sono Ado Paga Troppo Io sono Ado Uchiha Sappiatevi Dove conoscete il mio soprannome È Shizu del teletrasporto Io lo sapevo Ok Andiamo avanti S Ma io non l'avrei mai detto Non avrei mai detto Di ricevere S Come voto E guarda là Come Come Vengono i money 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 Ok Penso sia ora di Fare Una modalità Squad Cioè Singola Cioè senza aiutanti Voglio vedere Come me la cavo da solo Contro degli avversari Secondo me Viene qualcosa di veramente figo Ma proprio Veramente Figo Ok state pronti Perché tra poco vedrete Ado Paga Troppo Modalità Ninja In azione Allora Chi scelgo stavolta Shizui di nuovo No Piuttosto Andrej Minato Resurrezione Risveglio O Tecnica Suprema Io direi risveglio Va No aspetta Non contro Pain Facciamo a caso Conan È il colmo Ok stavolta Andiamo con Scenario a caso Orochimaru Side out Figo Ok guarda Minato è ancora più Figo di Shizui Secondo me Cioè Minato è tipo La vita L'avrete visto Anche dalle mie partite In Mugen Guardala Come parte Come parte Ecco come sfonda Di mazzate Conan Eccolo 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 Signori Pan Mannaya La Sengal Bam Eh ti prendo per forza A questo punto Conan Non credi Ok Carichiamo un bel po' di chakra Io direi di Trasformarci Adesso Trasformarci Tra virgolette Bam bam Ti piglio ammazzate Conan Che devo fare Se no Aglia Quei fogli Mi fanno paura Mi ricordano i fogli Delle verifiche Bam Eh ti prendo Eh Questa è la vendetta Contro ogni foglio Scolastico Sappiatelo Quindi raga Se dovete liberarvi Delle verifiche Chiamate Minato Perché Vi distrugge Tutti i fogli E vai Corra Zenian ancora Anconan Sono il nuovo Sans Gente Ok Ti sfondo Di mazzate Lo stesso Per fare quello che vuoi Contro di me Ma io ti sfondo Sempre Bam Eh ok Perdiamo un bel po' di chakra Perché mi servirà Oh 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 Si muove in modo Pericoloso Conan Oh che pezzo Che le ho fatto Oh cavolo 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 No Non ho sostituzioni No 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 Eh sono Piuttosto Fitto Bam Conan Fai male Si eh Si eh Tu le amazzate Tu le amazzate Ma forse Forse non hai capito Che stai combattendo Contro Minato Come si chiama La scintilla Gialla Il lampo giallo Ecco Stai combattendo Contro il lampo giallo Non puoi vincere E vai Corri Scappace L'emesis E pepe Cavolo Conan Hai rotto Aia Aia Fa male Troppo male Eppure Eppure Ma non ci voglio mettere Qualcosa Salto Get lost Get lost Mi ha detto La sei ingan Ha 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 Crepa Conan Detective Conan Io e le mie battute Doviniamo l'intero canale Ok Ok Oh no 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 Ti prego Vieni presto Sostituzione Dai 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 Sì E corri appresso a Conan No eh Oh 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 No cosa sono Sti schifi Aia Uh Un attimo ho tenuto il peggio Ah sì eh Maledetta Sì eh 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 Bam Vedi come mi trasformo Bisuminato Guarda là che bestia Aia Sarò anche Bisuminato Ma non ho lo stesso Le sostituzioni Fantastico Bello proprio Sì eh Ma 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 Arrivo Aspetta Sì Ti ho presa Maledetta Guarda là Come si muove Bam Devi morire male Conan Forse non l'hai capito Guarda là La prende ancora La prende ancora Signori Le dai infilzate Da tutte le parti Si muove come un lampo Ok Se lo faccio L'ultima volta Lei dovrebbe morire No forse Basterà questo Bam Abbiamo un vincitore Adopaga troppo Gente Adopaga troppo Vince sempre No non è vero Qualche volta Mi capiterà di perdere Ok Combatterò fino alla vera fine Sì Questo è lo spirito giusto minato Forza Allora Vediamo che voto mi da S B B mi ha dato Che pastardi Eh vabbè Pazienza E d'accordo ragazzi Direi che posso concludere Qui il video Se vi è piaciuto Lasciate un commento Mi piace Se volete Tornare informazioni Riguardo al gioco Se volete farmi Qualsiasi tipo Di domanda Mettete sempre Hashtag Adopaga poco Ci vediamo Alla prossima ragazzi